ma proprio la scrittura è bellissima la madre faceva... e lei è giapponese? si 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 proprio giapponese giapponese è venuto qua in Italia? si è la tua amica? no non è la mia amica è una... io faccio un campo estivo animo il diciamo aiuto aiuto con i bimbi io gli animo, cioè faccio animatore così gli aiuto a organizzo i giochi e organizzo l'attività e questa bimba è giapponese e la madre è venuta a fare qualche laboratorio per la scrittura perché proprio vabbè la scrittura giapponese poi è bella di per sé poi il tipo di scrittura fatto con un testo italiano è ancora più bello è mai visto lei proprio ci ha fatto con la scrittura giapponese scrivere varie lettere italiane ah che bello e tu riesci a scrivere qualcosa in giapponese? no ancora no 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 ho capito ok thank you